Claudio Gatti, lo spread oggi ha superato anche i 290 punti per chiudere a 285, dopo che Salvini ha detto che i parametri europei del 3% non solo si possono ma si devono sforare. Di Maio lo ha bacchettato, ha detto che è un irresponsabile. Allora visto dall'estero, osservata dall'estero la nostra povera Italia, perché tu vivi a New York, siamo considerati un po' poco affidabili per i mercati? L'Italia ha un problema di credibilità da un po' di tempo, in questo caso abbiamo un governo con una parte che è quella rappresentata da Di Maio, che è un'incognita, per il mondo europeo, i mercati americani non si sa cosa aspettarsi. Dall'altra in Salvini e nella Lega di Salvini abbiamo una figura che parla adesso per l'elezione di Europa sovranista, Europa sovranista è uno simaro, l'Europa è o democratico liberale e solidale o non è, quindi che i mercati abbiano a che fare con un interlocutore che parla non solo di spread ma anche di progetti che sono assolutamente irrealizzabili. I peggiori nemici del debito italiano sono gli stessi sovranisti. Sono gli stessi sovranisti. Grazie mille.